Sono Monkit e oggi volevo annunciare una cosa Prima di cominciare questo video Mi raccomando il codice creatore Nel shop simonkit Fate eccetta e vi supporterete come creatore E poi vedrete a sciampare quello che volete Allora, vi volevo annunciare una cosa Il 10 settembre ci sarà un torneo organizzato La media, ci saranno più atti Questo è ufficiale, ragazzi, sicuro che c'è Allora, sarà in duo Quindi dovete cercare un compagno in duo Allora Il Montepremi Come stavo dicendo, ragazzi Allora, questo torneo sarà il 10 settembre In duo Quindi dovete scegliere un compagno in duo Allora, il Montepremi sarà o una skin da 10 Cioè una skin da 800 O una skin da 1200 O quello che vuole Vabbè, una skin da 1200 o da 800 Gli orari saranno dalle 4 alle 6 Alle 6 No, 5 e mezzo, 6 comunque Allora, i punti come si guadagna? Intanto il totale è di 100 punti Chi raggiunge il primo a 100 punti Vince il torneo Allora, anzi, ragazzi, chi arriva prima ha 200 punti A 200 punti vince il torneo Allora, per i punti ci fanno le kill 5 punti Posizione 12 Posizione 12 10 punti Posizione 5 15 punti 15 punti E vittoria 30 punti Ok, raga? E niente, questo è tutto da Pankit Vi informerò su Instagram Quindi andatemi tutti a seguire Vi lascio il nome del mio Instagram E raga, grazie a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti